Con Marco Freschi, Citroen Italia, la presentazione dei vostri programmi sportivi, queste nuove iniziative della Citroen per il 2013. Sì, dunque qui proprio a ExpoRally lanciamo in anteprima assoluta la novità più importante per noi per il 2013, il lancio di Rally Academy Citroen DS3. Non è un trofeo, è una vera e propria Academy. Cosa vuol dire? È un'opportunità che offriamo a otto piloti che verranno selezionati da oggi fino al 25 febbraio per partecipare a questa Rally Academy. Una maniera innovativa per affrontare l'attività sportiva dedicata ai giovani piloti che vogliono intraprendere questa meravigliosa attività disciplina del Rally, cercando di donargli la possibilità di correre, di correre con i costi più bassi possibili e fornendogli una prospettiva di crescita negli anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi proponiamo, offriamo la possibilità di correre in cinque gare del campionato italiano Rally, tutte su asfalto, a partire dal Rally di Miglia Miglia di aprile, dell'11 di aprile, cinque gare con un costo di 45 mila euro, in cui in questa cifra c'è veramente tutto compreso, dal noleggio della vettura, i pneumatici Pirelli, la benzina, il catering, la tuta, il ripristino della vettura. Quindi l'equipaggio deve solamente presentarsi all'inizio del Rally, correre il proprio Rally e non ha alcun altro incombenza, perché viene tutto gestito in maniera centrale da un team che è Procar che si occuperà della manutenzione, del ripristino delle vetture tra una gara e l'altra e quindi anche del supporto tecnico, meccanici, consulenza in gara e sportiva. Quindi abbiamo studiato questa formula proprio per garantire i costi più bassi possibili, sempre garantendo il massimo della qualità. Infatti lo slogan che abbiamo ideato è low cost ma high quality. High quality perché utilizziamo una vettura che è la DS3R1, che è nuovissima, creata dal reparto competizioni di Citroen Racing a Parigi, quindi col massimo della sicurezza possibile, mantenendo bassi i costi proprio come da regolamento FIA R1. Quindi secondo noi un approccio innovativo alle competizioni, un approccio il più possibile abbordabile per giovani piloti che affronteranno questo campionato con queste cifre già sicure all'inizio dell'anno e il più bravo, il vincitore di questa Academy, che sarà un Under 25, parteciperà come premio finale al campionato 2014 come team ufficiale di Citroen Racing nel campionato italiano rally. Quindi con DS3R3, quindi un upgrade di vettura, quindi se sei stato molto bravo con l'R1, hai vinto, se ti sei dimostrato il migliore, avrai la possibilità di competere ora in maniera ufficiale con l'R3 nel campionato italiano rally. Ecco, questo per noi è il modo migliore, al di là dei soldi, di far progredire un pilota, dargli la possibilità di correre, di farlo progredire nella carriera, di dimostrare le proprie doti e le proprie professionalità. Marco, a chi volesse partecipare a questa prima selezione per tentare di essere tra gli otto selezionati, qual è l'iter? L'iter è quello di avvicinarsi e di mandare la propria candidatura a Citroen Italia o a Procar, che sono organizzati per ricevere le domande e per fornire tutte le informazioni, tutti i dettagli per la partecipazione a questo Rally Academy Citroen DS3.